Il mal di schiena si può curare e si può anche prevenire e qui entra in gioco una scuola, si chiama Back School, che significa letteralmente scuola della schiena. È una ginnastica che va bene per tutti, in qualsiasi condizione, e ha una storia importante perché nasce in Scandinavia, in Svezia, proprio per sopperire alla condizione di alcuni impiegati che erano costretti a vivere molte ore in ufficio stando seduti e quindi accusavano sempre questo mal di schiena. Da lì si è diffusa in tutta Europa e da alcuni anni anche in Italia. Infatti in Varese, nella provincia di Varese, per effetto appunto del fatto che il mal di schiena comunque costringe tante persone anche a cure riabilitative molto lunghe, si è pensato di poterla introdurre in alcuni corsi. La Back School non si sviluppa solo durante la lezione, proprio in palestra o nei corsi vari, si sviluppa anche nel quotidiano, quindi è importante stare seduti bene, è importante usarla bene quando si raccolgono i pesi da terra, quando al mattino magari siamo a lavarci davanti al lavandino, noi teniamo una postura che non è corretta per la colonna, quindi noi insegniamo anche l'uso della colonna nel quotidiano.